Gela spara i cani dell'ex giovane finisce in carcere fermato dalla polizia sulla 19 dopo il furto di un'autovettura a Caltanissetta la giornata mondiale del diabete in città formazione e informazione l'ematologia incontra il territorio intervento dell'assessore regionale volo ben trovati Gela spara ai cani dell'ex un giovane finisce in carcere i carabinieri di Gela hanno arrestato per tentato omicidio stalking minacce porto illegale di arma da fuoco un giovane di 22 anni il ragazzo dalla scorsa estate avrebbe preso di mira la sua ex fidanzata sfiorando qualche giorno fa il tragico epilogo il giovane infatti con una pistola avrebbe tentato di uccidere i cani della donna e poi avrebbe sparato alla ragazza che si trovava nel balcone per fortuna la giovane per pochi centimetri non è stata raggiunta dal proiettile è stata la stessa ragazza a raccontare ai carabinieri l'infinito calvario a cui lei e la sua famiglia sono stati sottoposti dopo la fine della relazione la giovane avrebbe riferito anche di alcuni messaggi che le sarebbero arrivati sui social in cui veniva mostrata una pistola la ventenne si sarebbe affacciata dopo aver sentito dei colpi di pistola esplosi sotto la sua abitazione lì avrebbe notato i suoi due cani feriti e assistito all'ex fidanzato che nel frattempo avrebbe rivolto l'arma contro di lei i militari dopo aver sentito a lungo la presunta vittima e i suoi familiari hanno tratto in arresto il ragazzo che durante l'udienza di convalida si sarebbe difeso raccontando tra le altre cose di essere stato aggredito da un parente dell'ex fidanzata mentre era in sella ad un ciclomotore da lì l'idea di andare a casa di quest'ultimo per un chiarimento dove gli sarebbero stati aizzati i cani contro e per questo avrebbe loro sparato il gip del tribunale di gela francesco pulvirenti però ha osservato che nonostante lo stato di incensuratezza del ragazzo persistono le esigenze cautelari per questa ragione è stato convalidato il fermo e ordinato la custodia in carcere maltrattamenti in famiglia arrestato un 25enne di riesi i carabinieri della stazione di sommatino in esecuzione di un'ordinanza del gip valentina balbo hanno arrestato un 25enne di riesi per i reati di maltrattamenti in famiglia minacce resistenza pubblico ufficiale l'uomo avrebbe offeso e picchiato la compagna e avuto comportamenti aggressivi anche nei confronti dei propri familiari in più si sarebbe scagliato contro gli arredi di casa distruggendoli un clima continuo di violenza è culminato il 29 luglio scorso con minacce e ingiuri anche nei confronti dei carabinieri quel giorno infatti mentre la donna in era stata trasportata al pronto soccorso a seguito di una lite con il 25enne il giovane improvvisamente era arrivato all'ospedale sant'elia di caltanissetta colpendo le porte d'ingresso avrebbe preteso di vedere la compagna contro quest'ultimo avrebbe anche gridato ti ammazzo a quel punto erano intervenuti i carabinieri la furia dell'uomo non si era fermata nemmeno davanti agli uomini dell'arma i quali avrebbe gridato vi spacco la testa arrestatemi e domani ti vengo a prendere vi ammazzo vi prendo a testate il 25enne era stato dunque ammanettato e condotto in caserma i carabinieri nel corso delle indagini hanno ricostruito i vari episodi di violenza che la compagna dell'uomo e familiari di quest'ultimo avevano subito nel tempo per il 25enne dunque è stata disposta un'ordinanza di custodia cautelare in carcere fermato dalla polizia sulla 19 palermo catania dopo il furto di un'autovettura a caltanissetta la polizia stradale ha tempestivamente individuato e tratto in arresto un giovane poco dopo il furto della fiat 500 abart consumata a caltanissetta attraverso il gps montato nell'auto infatti la polizia ha notato che il veicolo percorreva a forte velocità tra 180 e 200 chilometri orari l'autostrada a 19 palermo catania in direzione del capologo etneo gli agenti della polizia stradale di catania hanno predisposto in tutta fretta il blocco dell'autostrada simulando un incidente in cui un tir richiudeva l'intera carreggiata così il ragazzo non ha potuto fare altro che rallentare la velocità fino a fermarsi definitivamente e incolonnarsi in questo modo gli agenti sono riusciti a bloccarlo si tratta di un ragazzo di 24 anni già conosciuto alle forze dell'ordine per lo stesso tipo di reati con sé a bordo oltre ai classici arnesi da scasso per forzare le serrature è stato trovato in possesso di una centralina in grado di bypassare l'antifurto elettronico del veicolo il giovane ha subito ammesso il furto commesso poco prima nel capologo nisseno così è scattato l'arresto l'auto intanto è stata restituita alla legittima proprietaria una giovane di caltanissetta controlli della polizia sequestrati due fucili e una pistola ritirate altre armi la polizia di gel ha posto sotto sequestro due fucili una pistola e ha ritirato con un provvedimento amministrativo altre armi gli agenti in seguito alla consuetta azione di controllo del territorio hanno ritirato amministrativamente 15 fucili e sequestrato penalmente due fucile e una pistola dopo l'incremento dei fenomeni delittuosi consumato seggi alla fine ottobre la polizia di stato ha intensificato i controlli sui possessori di armi al fine di verificarne la corretta detenzione secondo i requisiti richiesti dalla legge nel corso della predetta attività la polizia amministrativa ha ritirato 15 fucili con relative munizioni a persone che non possedevano più requisiti di legge necessari per la detenzione è stato inoltre richiesto al prefetto un provvedimento di divieto di detenzione di armi ed esplosivi nei confronti di dieci soggetti che potrebbero abusarne la polizia giudiziaria ha sequestrato anche due fucili e una pistola con relative munizioni con denuncia alla procura della repubblica di gela delle persone che detenevano le armi illegalmente sono state rigettate infine aventi richieste di porto di fucile o di rinnovo presentata all'autorità di pubblica sicurezza e formulato un parere negativo su quattro richieste di porto di pistola inoltrata al prefetto poiché anche in questo caso i richiedenti non possedevano tutti i requisiti di legge necessari per ottenere il porto d'armi prevenzione circolazione stradale 46 violazioni rilevate dalla polizia nell'ultima settimana 46 violazioni in materia di circolazione stradale questo quanto verificato dagli uomini della sezione volanti della polizia di stato di caltanistetta nella settimana che si è appena conclusa tra questi controlli effettuati durante i servizi previsti per il territorio cittadino 13 conducenti hanno ricevuto una sanzione perché non avevano fatto la revisione del mezzo 6 invece perché utilizzavano lo smartphone durante la guida e 4 perché non avevano assicurato il mezzo 8 invece guidavano con la patente scaduta e 15 hanno ricevuto ulteriori altre sanzioni ma proprio sulla validità del documento necessario per poter condurre un mezzo ovvero la patente in tutti i casi i conducenti pensavano di poter ancora usufruire dello slittamento dei termini previsto durante la fase emergenziale da pandemia ed invece lo scorso 31 marzo è cessata la legislazione di emergenza ed è stata disposta all'ultima proroga dei termini prevista per il 29 giugno 2022 quindi dal 30 giugno in poi ogni proroga è terminata e per tornare a condurre il proprio mezzo bisogna necessariamente effettuare il rinnovo della patente così in caso di controllo su strada da parte degli organi di polizia farà fede solo e soltanto la data di scadenza riportata sul documento ovvero sulla patente una squadra di agenti della polizia di stato del reparto mobile aggregati a caltanissetta è stata impiegata nei servizi di ordine pubblico allo stadio valentino mazzola di san cataldo dove si è disputato l'incontro san cataldese licata i servizi di ordine pubblico disposti dal questore ai quali hanno anche concorso altre forze di polizia si legge in una nota pubblicata su facebook dalla questura hanno garantito un sereno svolgimento della manifestazione sportiva e consentito agli appassionati sportivi delle due tifoserie di assistere all'incontro di calcio in piena sicurezza comune di caltanissetta parlano i consiglieri matta e schirmenti sulle ultime scelte del sintaco gambino i due consiglieri comunali del movimento 5 stelle nina schirmenti e marco matta hanno provato dissenso dopo le ultime vicende che si sono susseguite nei giorni scorsi a palazzo del carmine fra tutte l'estromissione dell'ex assessore al bilancio luciana camizzi e della ricandidatura del sintaco alle prossime elezioni in merito alla autocandidatura di gambino io dico che qualsiasi ricandidatura o nuova candidatura secondo i principi conclamati dal movimento 5 stelle comunque accettati dagli iscritti deve partire da un confronto e da una condivisione con la base cioè qualsiasi autocandidatura può soltanto essere vista come una proposta e disponibilità non come invece una decisione autonoma unilaterale e soprattutto monocratica in merito alla estromissione dell'assessore camizzi vorrei sapere in base a quali parametri è stata sfiduciata visto che ha raggiunto tutti gli obiettivi e ha lavorato in in armonia con i principi del nostro movimento forse il sindaco si dimentica che è stato democraticamente scelto dalla base del movimento 5 stelle la stessa base che l'ultimamente sta sta ignorando vedi l'episodio della dell'assessore camizzi sono tutti azioni che tendono comunque a rompere i rapporti con con la base quindi in virtù di queste motivazioni io mi chiedo con quale lista civica il sindaco voglia comunque candidarsi anche perché forse pensa che da sindaco possa avere possa fare a meno della protezione della della base oppure possa avere qualche corsia preferenziale il futuro io purtroppo non posso prevederlo perché le decisioni nazionali spettano degli organi di controllo che che si occupano di queste scelte posso solo dire che a livello locale c'è comunque una forte spaccatura e noi durante la campagna elettorale abbiamo abbiamo dato delle delle forte indicazioni abbiamo fatto delle forti promesse che erano ridurre i costi e la politica sul nostro programma abbiamo inserito l'abbattimento dei costi del consiglio comunale tant'è che abbiamo promesso ai nostri cittadini che comunque ci saremmo limitati a svolgere due sedute di commissione alla settimana proprio per ridurre i costi cosa però che il sindaco non ha fatto perché anche lui aveva promesso cinque assessori più due a progetto che dovevano alternarsi invece ci ritroviamo con nove assessori giusto per fare un esempio palermo che ha 637 mila abitanti a 11 assessori firenze ne ha 10 soltanto la regione sicilia ne ha 12 noi con meno di 60 mila abitanti ne abbiamo 9 quindi questa è una cosa che io effettivamente non non approvo comunque io resto all'interno del movimento 5 stelle resto all'interno della maggioranza vigilerò sull'operatore il sindaco e farò in modo che i principi e i valori del movimento vengano rispettati abbiamo contattato il sindaco roberto gampino per un'eventuale risposta ma essendo fuori sede ci farà sapere nei prossimi giorni sorveglianza negli spazi condominiali intervento del comandante della polizia municipale telecamere di videosorveglianza sì telecamere di videosorveglianza no per installarle sulle parti comuni o lungo il perimetro di un edificio bisogna rispettare la normativa sulla privacy e non solo e in caso di condomini bisogna anche rispettare la maggioranza necessaria solo pochi giorni fa sono dovute intervenire a caltanissetta le forze dell'ordine per fermare un signore che con un'arma d'aria compressa avrebbe sparato in direzione delle telecamere di una vicina di casa in via sant'anna ma quando è possibile utilizzare le telecamere di videosorveglianza per quanto riguarda invece i privati hanno innanzitutto una regola ben precisa cioè si possono possono utilizzare i sistemi di videosorveglianza ma tutela del proprio esclusivo interesse quindi del proprio patrimonio della propria abitazione del proprio uscio di casa e marginalmente questo può afferire anche ad ambiti publici quindi io che ho un'azienda o un immobile ritengo che per tutelare la mia sicurezza e quello dei miei familiari il mio patrimonio quando contenuto nell'abitazione posso utilizzare questi sistemi nella misura in cui questi sistemi traguardano quella finalità quella della tutela del singolo soggetto non della tutela altrui quindi le immagini non possono riprendere strade e cortili aree dove non solo aree pubbliche ma anche aree ad uso pubblico dove l'accesso è indiscriminato se non marginalmente quando questo è necessario la tutela del patrimonio esiste un altro obbligo in capo ai privati che quello che qualora effettuano questa operazione devono dare all'esterno un'informativa minima ai soggetti e cioè che l'area è videosorvegliata quali sono i soggetti che diciamo responsabili di quell'impianto e dove poter eventualmente rinvenire quelle registrazioni. E se nel palazzo in cui si vive alcuni condomini volessero installare un sistema di videosorveglianza con telecamere per controllare meglio la proprietà e qualcuno si opponesse perché sente violata la propria privacy le regole per la videosorveglianza in condominio richiedono rispetto della maggioranza prevista da legge. Un caso ulteriormente diverso è invece il condominio perché stiamo parlando di parti comuni di edificio in questo caso la videosorveglianza va ben analizzata da parte dell'assemblea dei condomini che devono deciderne sulle parti comuni se questo è uno strumento di tutela. In questi casi oltre ad informativo occorre un'assemblea che delibri in questo senso all'interno del condominio sempre ripeto con un'informativa che deve essere molto puntuale in favore dei soggetti potenziali che accedono a quell'area. Oltre a questi casi si ingorre in sanzioni gravissime che vengono irrogate dall'autorità garante su segnalazione degli organi preposta al controllo. Anche la polizia municipale può effettuare questi controlli. La giornata mondiale del diabete a Caltanissetta formazione e informazione. Il diabete di tipo 1 è una forma di diabete che si manifesta prevalentemente nel periodo dell'infanzia e nell'adolescenza anche se non sono rari i casi di insorgenza nell'età adulta. Per questa ragione fino a poco tempo fa veniva denominato diabete infantile. Esso rientra nella categoria delle malattie autoimmuni perché è causata dalla produzione di autoanticorpi. Anticorpi che distruggono tessuti ed organi propri non riconoscendoli come appartenenti al corpo ma come organi esterni che attaccano le cellule beta che all'interno del pancreas sono deputate alla produzione di insulina. In occasione della giornata mondiale del diabete l'associazione Giovani Diabetici del centro Sicilia ha organizzato domenica 20 novembre una giornata di formazione di informazione sul diabete di tipo 1. La giornata si è tenuta alla casa del volontariato della cultura ed oltre a momenti di formazione ci sono stati anche momenti di allegria e divertimento con l'obiettivo di aver informato in modo creativo i bambini mentre si divertivano. In occasione della giornata mondiale del diabete che si festeggia sempre nel mese di novembre abbiamo pensato di fare una bella iniziativa che doveva essere svolta presso il parco Dubini per come l'abbiamo pubblicizzata purtroppo il tempo non ci ha aiutato grazie alla disponibilità che ci ha dato il nostro amico Filippo Maritato e oggi la faremo qui presso la casa delle culture del volontariato dove abbiamo anche noi come associazione la nostra sede. La nostra giornata si svolgerà come informazione e nello suo tempo anche formazione. Abbiamo la rappresentante del nostro centro di diabetologia, oggi purtroppo il dottore non è stato possibile essere presente, abbiamo la dietista che ci darà delle informazioni per quanto riguarda l'alimentazione dei nostri bambini, abbiamo pure un informatore medico che ci parlerà per quanto riguarda le tecnologie che va dal microinfusore al rilevatore della glicemia, abbiamo pure la croce rossa che non manca mai di stare al nostro fianco, che si occuperanno anche loro quando riguarda i parametri, la misurazione della glicemia, abbiamo pensato pure di creare un momento anche per quanto riguarda le degustazioni e nel suo tempo qui la nostra dietista ci aiuterà anche a far capire ai nostri bambini cosa mangiare o perlomeno il mangiare sano, che purtroppo oggi i nostri bambini sono un pochettino distanti da questa alimentazione. L'ematologia incontra il territorio intervento dell'assessore regionale, Volo. Si è svolto lo scorso sabato 19 novembre l'appuntamento del corso di aggiornamento dal titolo Lematologia incontra il territorio, condivisione dei percorsi diagnostici terapeutici. Presente anche la neoassessora regionale alla salute, la nissena Giovanna Volo, che ha inaugurato l'apertura dei lavori della giornata di formazione nella sede di Caltanissetta. Il mio interesse fondamentale e il mio obiettivo principale, condiviso devo dire dal presidente della regione, è quello di creare delle integrazioni forti che ci possano portare ad uscire dalle enormi difficoltà che in questo momento vengono registrate su alcune cose. Faccio degli esempi pratici, gli intasamenti del pronto soccorsi, la lungaggine dei tempi delle liste d'attesa e di conseguenza l'impossibilità a fare diagnostica in tempi accettabili, la cura dei soggetti con patologie croniche perché a causa del Covid è stato evidente come non sia più possibile fare accedere tutti in ambito ospedaliero. Il secondo appuntamento nel corso di aggiornamento inoltre ha ribadito ancora una volta l'importanza del rapporto di collaborazione fra lo specialista e il medico di medicina generale, così come racconta Maria Enza Mitra, direttore dell'unità operativa complessa di amatologia dell'ospedale Santeria di Caltanissetta. In ambito ematologico, perché questa è la nostra specialità, vuole che ci sia un rapporto diretto con i medici di base che rappresentano proprio il primo punto di riferimento per tutti i pazienti. È fondamentale che ci sia una dialettica sempre aperta, pronta e che si rinnovi in base a quelle che sono le evoluzioni, la scienza, la nuova medicina di precisione e soprattutto le innovazioni terapeutiche sempre più mirate verso una terapia che è sempre di più domiciliare, in quanto le nuove terapie ormai si fanno quasi tutte in regime di outpatients. Una visione condivisa anche dai medici di medicina generale, rappresentati dalla dottoressa Anna Santamaria. Il rapporto tra medico di medicina generale e collega specialista rappresenta un punto fondamentale per la tutela della salute del paziente, perché soltanto in una sinergia attiva tutto questo può avvenire e l'obiettivo si può raggiungere e devo dire che tutto questo e questa sinergia che è nata anche durante il periodo della pandemia fino a oggi e si è rafforzata, ci ha consentito di avere questo obiettivo. Una prima parte del corso è stata dedicata alla presentazione di casi clinici per approfondire l'aspetto dell'iter diagnostico-terapeutico delle diverse forme di leucemia, trattate dal dirigente medico dell'unità di ammatologia dell'ASPR in Sena, Pamela Murgano. Oggi è stato anche un momento di incontro con i medici del territorio, un momento in cui abbiamo ricordato come il Covid ci ha resi un fronte comune nell'affrontare non solo la pandemia ma a non fare fermare la diagnosi e il trattamento in ambito ammatologico. Presente anche il presidente nazionale dell'Aile, Giuseppe Toro, che ha sottolineato l'importanza del volontariato. Oggi in questa importante iniziativa che si è svolta a Caltanissetta sono stati affrontati i grandi passi avanti fatti dall'ematologia in questi anni. Un tempo di leucemia si moriva, la sua diagnosi era una sorta di condanna a morte, oggi almeno il 70-80% dei malati trovano risposte terapeutiche, non solo ma un grande numero di malati si cronicizza, quindi con aspettative di vita quasi simili a quelle dei pazienti normali. Il volontariato in questo è vicino, supporta il reparto di ematologia ma soprattutto i pazienti. È stato il presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Caltanissetta, Giovanni Di Polito, a concludere lavori. Quelle del 22 ottobre e del 19 novembre, dice, sono state due giornate che ci hanno permesso di fare incontrare i medici di medicina generale e gli specialisti, con la certezza che il dialogo tra le loro professionalità rimanga sempre aperto e costruttivo per il bene dei pazienti. All'abbazia di Santo Spirito è stata celebrata la ricorrenza della Virgo Fidelis, alla quale hanno preso parte le massime autorità provinciali. Presenti inoltre i vertici delle forze di polizia e una massiccia rappresentanza di carabinieri in servizio e in congedo. La Vergine Maria si legge in una nota è divenuta patrona dell'arma dei carabinieri nel 1949. San Cataldo, istanze e provvedimenti parla il sindaco, Gioacchino Comparato. Scadeva proprio oggi, 21 novembre, il termine per la presentazione delle istanze per le agevolazioni itali, un contributo natantum destinato a cittadini e nuclei familiari residenti a San Cataldo, in possesso di certificazione di disabilità grave, ai sensi dell'articolo 3,3 della legge 104 del 92 e intanto si pensa ai prossimi provvedimenti per venire incontro all'esigenza della cittadinanza. Il sindaco di San Cataldo, Gioacchino Comparato, ha infatti preannunciato ulteriori sostegni economici, questa volta riferiti alle spese per le utenze elettriche e idriche e non solo. Allora, dopo i bandi per le agevolazioni della Tari che ha appena ricordato, l'ultima sulle agevolazioni Tari per coloro che hanno una 104 articolo 3,3, nelle prossime settimane provvederemo anche a uscire un altro, un ulteriore bando, un bando per venire incontro alla popolazione sempre con un ISEE inferiore a una determinata soglia per provvedere al pagamento delle utenze elettriche e delle utenze idriche e probabilmente, anzi quasi sicuramente anche nei confronti di chi ha degli affitti e quindi sempre legato però ad un certo reddito. Da questo punto di vista noi siamo sempre al lavoro e siamo sempre alla ricerca di nuovi strumenti per cercare di alleviare quella che è una situazione economica che ovviamente come in tutte le città d'Italia si sta facendo drammatica. Per cui laddove dovessero esserci ulteriori risorse che riusciremo a recuperare senz'altro verranno messe a disposizione. Intanto per quanto riguarda le scuole in arrivo altri fondi che verranno destinati all'asilo Belvedere. Dopo gli interventi che abbiamo fatto nella Corsa Unità d'Italia siamo riusciti a restituire alla città con un lavoro che già era iniziato presso la precedente amministrazione anche l'asilo Lambruschini. È una scuola storica per la città di San Cataldo e siamo felici di averla riconsegnata ai nostri bambini. Tra l'altro proprio la scorsa settimana siamo stati notiziati che arriveranno 500 mila euro che serviranno per l'asilo Belvedere. Quindi un ulteriore intervento che andremo a fare sull'asilo Belvedere con fondi a valere sul Piano Nazionale Ripresa e Resilienza ma tanti altri sono stati gli interventi sulle scuole che in quest'ultimo anno abbiamo messo in essere nell'ordinaria amministrazione. Il Casale, la Baronia, la città di San Cataldo, viaggio nel tempo e nella storia di una comunità. In una sala gremita Claudio Arcarese ha presentato venerdì 18 novembre 2022 il sultimo lavoro dal titolo San Cataldo, il Casale, la Baronia, la città, un evento organizzato dall'associazione culturale Giuseppe Amico Medico che lo stesso presiede e che ha visto gli interventi dei sindaci di San Cataldo e di Caltanissetta ma anche dello storico Luigi Bontà che ne ha curato l'introduzione. Il libro è stato patrocinato gratuitamente dal comune di San Cataldo e sostenuto da diverse realtà del territorio. La prefazione è stata curata dallo scrittore e consulente letterario nonché fondatore dell'associazione Noi e la Sicilia Enzo Russo. Non si tratta della prima fatica letteraria dedicata alla sua città per Claudio Arcarese. Nel 2018 aveva pubblicato infatti il volume incentrato sulla settimana santa san-cataldese intitolato San Cataldo, la città della scinnense dei San Paoloni. Adesso realizza un nuovo volume, sollecitato da più parti, si legge nella nota, a lavorare a un nuovo progetto che raccontasse la sua città nel suo complesso dalle origini ai giorni nostri. L'opera permette al lettore di immergersi nella storia della città di San Cataldo, tra qualche aneddoto personale, curiosità, ma anche arte e cultura, e persino memoria. Attraverso i due capitoli fotografici, gocce di memoria con immagini in bianco e nero che raccontano la San Cataldo di un tempo e persino foto di famiglia, e saluti da, una raccolta di cartoline d'epoca appartenenti alla collezione di Francesco Scarantino. Il libro di Arcarese cerca di raccontare la città rivolgendosi soprattutto ai giovani, ma anche ai più curiosi e possibili visitatori. Andando indietro nel tempo, descrivendo il processo di formazione e trasformazione del territorio, si precisa nella nota, e della sua comunità. Calcio pari per la San Cataldese contro il Licata, la Nissa travolta a Misilmeri, 4-0. Calcio nel campionato di Serie D, la San Cataldese non va oltre il pari, a reti inviolate, 0-0 contro il Licata, allo stadio Valentino Mazzola di San Cataldo. I Verdi Amaranto, guidati da Pietro Infantino, non riescono a centrare il quarto successo stagionale contro una squadra ampiamente alla portata. Lo 0-0 finale premia soprattutto i Licatesi, che raggiungono quota 16 in classifica. La San Cataldese non riesce a tirarsi fuori dai bassi fondi della graduatoria. I risultati della dodicesima giornata. Castrovillari, Trapani, 3-0. A Cireale, Vibonese, 0-0. Sant'Agata, Paternò, 1-0. Cittanova, Locri, 2-2. Lamezze, Catania, 1-1. Santa Maria, Ragusa, 3-4. Real Aversa, San Luca, 1-2. San Cataldese, Licata, 0-0. Canicattì, Mariglianese, il 30 novembre. La classifica. Catania, 32. Lamezze, 22. Vibonese, 21. Ragusa, 20. Locri, 19. Sant'Agata e Castrovillari, 18. Licata, 16. San Luca, Real Averse, Trapani, 15. Paternò, Canicattì, Acireale, San Cataldese, 12. Cittanova, 9. Mariglianese, 3. Quattro gol sul groppone per la Nissa, Misilmeri. La Don Carlo non fatica più di tanto per imporsi sulla squadra biancoscudata. Al ventitraesimo, la prima rete dei padroni di casa con Matera. Il raddoppio allo scadere del primo tempo con Concialdi. Nella ripresa, Tris di Mendola. E nel finale, poker di Pellegrino. I risultati dell'undicesima giornata. Cus Palermo, Oratorio, 0 a 2. Castellammare, Parmonval, 1 a 0. Enna, Casteldaccia, Rinviata. Leonfortese, Sciacca, 0 a 1. Gela, Acragas, 0 a 2. Resuttana, Mazzara, 1 a 2. Don Carlo, Nissa, 4 a 0. Mazzarese, Profavara, 0 a 1. La classifica. Acragas, 27. Don Carlo, 25. Profavara, 24. Mazzara, 21. Enna e Mazzarese, 20. Sciacca, 19. Casteldaccia, 15. Castellammare, 14. Nissa e Oratorio, 12. Leonfortese, 10. Resuttana e San Lorenzo, 7. Parmonval, 4. Gela, 3. Volley serie B2 femminile. Albaverde, Caltanissetta, Vittorio Olsa. Al palacanizzaro contro il Comiso. Nissene in vetta alla classifica. L'Albaverde condina la sua striscia positiva casalinga conquistando l'ennesimo 3 a 0, questa volta ai danni dell'Ardens Comiso che le permette di mantenere la vetta solitare del campionato di Serie B Girone M. Ad un inizio dei 3 set abbastanza combattuto con errori da una parte e dall'altra sono seguite arrepentine accelerazioni delle padrone di casa che hanno concesso poco spazio alle ospiti nella seconda frazione dei 3 set. Prestazioni top per Alessian Gillette e Nicoletta De Luca, vere trascinatrici dell'Albaverde e determinati nei momenti decisivi della gara. In casa Nissena quindi si rimane con i piedi ben piantati a terra in attesa degli scontri diretti con le altre squadre che occupano le prime posizioni della classifica e tra queste soprattutto con quelle che mirano senza mezzi termini a vincere il campionato. Prossimo appuntamento, sabato 26 novembre alle ore 18, sempre al palacanizzaro contro il Cus Catania. I risultati della settima giornata Albaverde Ardenz Comiso 3 a 0 Cus Catania Stefanense Volley 3 a 1 Funivia Etna Fidelis Torretta 3 a 1 Pallavolo Crotone Sensational Profumerie 3 a 2 Volley Region Saracena 3 a 0 Cosedil Zafferana Planet Strano Light 3 a 0 Procori Ericina Volley Brico City Alus Volley 3 a 0 La classifica Albaverde 19 punti Cosedil Zafferana e Pallavolo Crotone 18 Sensation Profumerie 17 Cus Catania 15 Fidelis Torretta e Funivia Etna 13 Procori Ericina Volley 12 Volley Region Saracena 6 Ardenz Comiso 5 Stefanense Volley 3 Brigo City Alus Volley Planet Strano Light chiudono la classifica con un punto Sono particolarmente contenta Perché oggi hanno giocato ragazze dalla panchina Molto molto giovani E hanno giocato molto bene Hanno dato una bellissima risposta Parlo della nostra palleggiatrice Millie Gabriella la nostra opposta Il nostro libero per il primo anno che è con noi È stata davvero brava La squadra ha ancora molti margini di miglioramento E ovviamente noi puntiamo in alto Più in alto che possiamo Noi abbiamo fatto una squadra per stare nelle parti alte della classifica E in queste prime partite stiamo confermando questo trend Anche la vittoria di oggi significa che manterremo la testa della classifica Ma ancora il campionato è molto lungo E soprattutto ci sono ancora parecchi scordi diretti che potranno dire quello che è realmente la nostra forza In tanto ci godiamo questo primo posto e continuiamo a lavorare in questo trend E tutto vi lascio al meteo e alle informazioni di pubblica utilità Grazie per l'attenzione e appuntamento rinnovato alle prossime edizioni Amici Trebi Meteo Bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì Che attenzione rischia di essere davvero una giornataccia in Italia Per colpa di questa intensa perturbazione associata a un profondo centro di bassa pressione Che attraverserà un po' tutto il nostro paese Controlliamo la nuvolosità prevista sull'Italia E si vede proprio questa perturbazione che proprio tocca l'Italia da nord a sud Parte dalle regioni sedentronali Coinvolge subito anche il centro Italia E man mano raggiunge anche il sud Precipitazioni particolarmente intense e insistenti sul versante tirenico Ma un po' dappertutto con vera tenere l'ombrella portata di mano Solo all'estremo nord ovest Atteso un'attenuazione dei fenomeni sin dalle prime ore del giorno Quindi in definitiva ci attende un martedì delicato sull'Italia Ripeto con piogge diffuse Anche venti forti Soprattutto sul versante tirenico Sulle isole maggiori Ma un po' in tutta Italia Si farà sentire appunto anche parecchio vento Neve sulle Alpi centro orientali Sull'Apenino centro settentronale Anche a quote basse Attenzione Potremmo arrivare anche a 800 metri di quota Solo sulle regioni di nord ovest Come vi accennavo È atteso un miglioramento a partire già dalla mattinata Per il resto d'Italia bisognerà aspettare la fine del giorno Per tutti i dettagli e comunque sulle vostre località Vista la situazione consultate l'app di Trebi Meteo Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno Caltanissetta Servizio diurno Del Poggio Viale Luigi Monaco Servizio notturno Marrocco Via Rosso di San Secondo Grazie a tutti! Grazie a tutti!